La decisione di quotazione in borsa non spetta alla Regione. Il Presidente della Giunta risponde all'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi. Alloggi ERP. Il Consiglio regionale approva con 34 voti a favore la nuova legge che adegua i limiti di costo degli interventi. IRPET via libera al bilancio preventivo 2023 e pluriannale 2023-2025. Il Consiglio regionale approva maggioranza con 20 voti a favore e 11 contrari. Sanità. L'Aula approva maggioranza il conto preventivo 2023 e pluriannale 2023-2025 dell'Agenzia regionale di Sanità, con 19 voti a favore e 11 voti contrari. Esprimo un'opinione positiva sul fatto che più comuni si aggreghino per gestire servizi, ma questo al di là delle forme con le quali le società vengono gestite dai comuni stessi. Così il Presidente della Regione, Eugenio Gianni, risponde in Aula all'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi in merito alle possibili divergenze nel PD circa la multiutility dei servizi e la sua quotazione in borsa. Sulla multiutility ho voluto fugare un po' dalle polemiche che poi si cercano di attivare su un tema che invece è molto importante che va davanti, ovvero il fatto meno della quotazione in borsa, delle azioni. Questa non è competenza regionale, anche perché sulla multiutility si va a costituire una società di servizi su una materia che riguarda i comuni, ovvero la gestione dei servizi. E quindi la legislazione nazionale attribuisce ai comuni la scelta di gestione, quindi quando si fanno delle scelte di società pubblica saranno i comuni a decidere se farla in un ambito proprio, in un ambito associato di comuni o in un territorio vasto che addirittura arriva a comprendere più ato, penso ai servizi del smaltimento dei rifiuti in cui la Toscana è divisa in tre. Di conseguenza io su quello ho detto il principio, il principio che si arrivi a una società che coinvolga più comuni possibili nella gestione dei servizi della Toscana per me è auspicabile, per la Giunta è auspicabile. Nel resto non possiamo rimanere colonia di altre realtà. In Emilia Romagna Noera viene a formulare delle proposte di gestione dei servizi, legittimo, ma se è toscana la società è meglio, perché poi anche gli utili che possano derivare dalle utiliti di servizi pubblici almeno li rinvestiamo sui territori. Sulla multiutility la novità sono le dichiarazioni del neoletto segretario regionale del PD Fossi e dell'assessore all'ambiente Monni, che appunto una volta vinte le elezioni interne nel partito del PD, fanno dichiarazioni dove mettono in discussione la multiutility sotto certi aspetti e soprattutto sulla sua quotazione in borsa, che era invece una posizione che sembrava ormai concretizzata da parte della Giunta regionale. Quindi abbiamo chiesto al Presidente Gianni se c'era una condivisione all'interno della Giunta su questo argomento, ma anche perché alla base di questo c'è la mancanza del piano dei rifiuti. La Tari aumenta, cittadini e imprese pagano sempre più Tari, gli impianti in Toscana non li facciamo e non li pianifichiamo, quindi esportiamo anche tantissima spazzatura al di fuori della regione e questo chiaramente ha dei costi molto alti per i cittadini. Alla base c'è questo e sulla prospettiva futura ancora una volta non c'è chiarezza da parte della Giunta. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, con 34 voti a favore, la modifica della legge regionale 77 del 1998, che determina i limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica. È stato il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Enrico Sostegni, a illustrare il provvedimento in aula. I lavori di ristrutturazione delle case popolari si stavano bloccando, anzi si sono bloccati in tante parti, perché per gli ERP c'è un limite al costo che si può sostenere nelle ristrutturazioni, che è stabilito da un decreto ministeriale che la Giunta regionale ogni anno riadotta. Questo limite di costo, a causa dell'inflazione, diventava ogni anno troppo basso e quindi faceva sì che poi non si trovavano le ditte per fare i lavori, rallentando l'adeguamento di alloggi ERP. Noi sappiamo quanto sia importante la ristrutturazione dell'alloggio e quindi dare una risposta ai nostri cittadini. Con questa legge diciamo che la Giunta può ovviamente rispettare i limiti nazionali che ci possono essere a partire dal decreto del 1994, ma qualora vi è un aumento dei prezzi può usare come limite massimo il preziario regionale che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo una volta l'anno ma anche all'interno dell'anno e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Quello costituirà il limite massimo di costo che si può utilizzare e che si può sostenere per l'alloggio ERP e che dovrebbe essere assolutamente adeguato in linea con i prezzi e quindi ci permetterà di far ripartire tanti cantieri che ora sono bloccati. In Toscana abbiamo poco meno di 50.000 alloggi ERP, di questi 3.000 sono vuoti perché non ci sono i soldi per metterli a norma. Noi pensiamo che si possa intervenire vendendo un po' di alloggi popolari a chi già ci sta dentro, ovvero dando la possibilità di riscattarli. Con quei soldi si possono mettere a norma gli oltre 3.000 alloggi di edilizia popolare pubblica che non sono sul mercato e che quindi non possono essere messe a disposizione delle migliaia di toscani e toscani che invece hanno diritto a entrare dentro quegli alloggi. 3.000 alloggi vuoti significa circa 10.000 toscani che avrebbero diritto a una casa popolare e che non la possono avere perché non ci sono i fondi a sufficienza per ristrutturare gli alloggi già presenti. Se noi diciamo vendiamone a chi già ci sta dentro 1.500 e con quei 1.500 che diamo a chi già ci abita e quindi li facciamo riscattare possiamo ristrutturare gli altri 3.000 che vanno a chi ne ha diritto. Siamo sostanzialmente favorevoli, dobbiamo anche lì comunque fare delle, eccepire alcune cose in quanto in commissione spesso abbiamo parlato delle case popolari di come il danaro potrebbe essere riciclato vendendo determinati alloggi per poter mettere a regime altri che magari sono fermi soltanto perché devono essere rimessi in sesto. Sicuramente l'aumento, anzi la rimodulazione del prezzario è stata necessaria dal fatto che appunto il costo delle materie è aumentato enormemente, ha fatto sì che molti appalti non fossero più sostenibili ai prezzi precedenti ma viene da considerarsi anche il combinato disposto. L'aumento dei prezzi collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento, un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in sesto degli appartamenti e degli immobili che lo ricordiamo, come è stato denunciato anche da Sunni a CGL a gennaio, sono moltissimi in pessime condizioni e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati, alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie. Non si può appellarsi adesso a un governo che è di matrice politica diversa dalla propria senza ignorare che nei decenni precedenti il Partito Democratico, questa maggioranza, ha potuto operare sia in Regione sia a livello parlamentare per poter rimediare a un piano case adeguato per tutte le Regioni. Quindi è assolutamente strumentale questo modo di fare. Abbiamo sicuramente votato a favore perché è l'unica soluzione in questo momento per riuscire a dare a tante famiglie bisognose degli appartamenti. Via libera del Consiglio regionale al bilancio preventivo 2023 e pluriannale 2023-2025 dell'Istituto regionale per la programmazione economica. L'Aula ha approvato a maggioranza con 20 voti a favore e 11 voti contrari. È stato il Presidente della Commissione Affari istituzionali Giacomo Bugliani a illustrare all'Aula le linee del bilancio di IRPET. Ancora una volta IRPET si dimostra un istituto assolutamente utile alle scelte strategiche di governo della Regione Toscana. Lo fa con un bilancio che nel 2023 risulta sostanzialmente analogo a quello del 2022 quanto alle previsioni sia sul fronte del valore della produzione sia su quello dei costi della produzione. Si registra infatti solamente un piccolo calo con riferimento alle risorse che derivano dalle attività connesse ai fondi europei e un altrettanto abbastanza ridotto calo rispetto agli introiti che vengono dagli altri soggetti pubblici. Poiché la Regione Toscana lascia inalterato il contributo ordinario ad IRPET che è annualmente di 2.750.000 euro per un bilancio complessivo che supera di poco i 3 milioni di euro. Si tratta quindi ancora una volta di un istituto che dimostra di saper ben gestire le risorse che ha a disposizione e lo fa con un programma di attività che si consolida nei suoi aspetti fondamentali sia con riferimento alle attività di ricerca istituzionali sia le attività di ricerca comuni. Con un particolare riguardo alle esigenze anche del Consiglio regionale mi piace infatti sottolineare come nel corso del 2023 verranno svolti da IRPET due studi importanti di cui uno sarà proprio quello puntualmente richiesto dal Consiglio regionale con una risoluzione votata alla fine del 2022 che è quello inerente al digital divide al tema delle comunicazioni e delle telecomunicazioni e alla loro diffusione sul territorio regionale nonché alle scelte di allocazione delle imprese e della residenzialità da parte dei cittadini toscani. La qualità del lavoro di IRPET è indiscussa e indiscutibile proprio perché mette molti sapieri ed esperienze a disposizione della Giunta e del Consiglio regionale per cercare di advenire a delle proposte di legge quindi a una qualità normativa e decisionale superiore ma il punto qual è? È che se andiamo a vedere quello che IRPET suggerisce attraverso i suoi documenti e le sue ricerche e quello che fa la Giunta regionale spesso anche i consiglieri della maggioranza soprattutto le cose non collimano quindi cosa succede? Che abbiamo un grande pozzo di conoscenza e delle risorse immense dal punto di vista delle indicazioni che ci possono essere date per riuscire a fare delle norme che davvero rispondono alle esigenze economiche e sociali del nostro territorio le finanziamo abbondantemente ma poi non le utilizziamo quindi il problema non è di bilancio il problema è politico perché la politica guarda ai consensi e non guarda alla qualità di ciò che deve costruire. IRPET è uno strumento fantastico poco utilizzato. Approvato dal Consiglio regionale il bilancio preventivo 2023 e pluriannale 2023-2025 dell'Agenzia regionale di sanità. L'aula si è espressa a maggioranza con 19 voti a favore e 11 voti contrari sulla richiesta di parere al Consiglio regionale e sull'assegnazione di risorse finanziarie per l'esercizio 2025. Il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni ha illustrato in aula le linee del bilancio di ARTS. L'Agenzia regionale di sanità è un punto di riferimento per tutti gli operatori, per la politica direi anche per i cittadini basta andare sul sito e vedere gli innumerevoli lavori che hanno e che producono continuamente i ricercatori che fanno capo all'ARS. Un punto di riferimento perché quando si parla di sanità è necessario partire dai dati, è necessario partire dalle analisi e quelle che l'ARS fa sono un punto fondamentale che noi abbiamo usato anche quando abbiamo fatto il percorso degli Stati Generali della Salute, se no si rimane alle opinioni e invece le discussioni politiche vanno fondate sui dati. L'Agenzia di sanità è una valutazione positiva perché è un ente tecnico che dovrebbe risolvere dei problemi che la politica pone. Evidentemente però non vengono posti in maniera adeguata se il risultato è una sanità di questo genere, dove si dice tutto il contrario di tutto. Naturalmente essendo il bilancio di ARTS un'emanazione diretta della Giunta è ovvio che noi non partecipando quindi alla stesura e comunque alle scelte programmatiche non potevamo che votare contro. Grazie.